La sostenibilità ambientale, una delle aree di progettualità della Fondazione Acqua dell'Elba, quest'anno ha registrato una novità ed un'importante conferma. La novità è l'adesione al Kyoto Club, una realtà italiana molto importante che si rifà al protocollo di Kyoto per la riduzione dell'inquinamento da CO2 nell'atmosfera. La conferma arriva invece da Venezia con l'invito al Blue Friday, l'evento organizzato dalla Commissione Oceanografica Intergovernativa dell'UNESCO nell'ambito del Decennio delle Scienze del Mare per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite per trasformare il venerdì più nero dell'anno in un'occasione per salvaguardare e rigenerare il nostro mar Mediterraneo. Ad annunciarlo è Norman Larocca, direttore della Fondazione nel corso della prima giornata della Green Week organizzata dalla Fondazione Acqua dell'Elba. La novità è la nostra adesione al Kyoto Club, che è una realtà molto importante italiana che si rifà ovviamente ai protocolli di Kyoto del 1997 per la riduzione quanto più possibile dell'inquinamento e delle emissioni di CO2 nell'atmosfera. Noi come azienda ci stiamo lavorando da parecchio tempo e con questo nuovo tassello, un nuovo passo cerchiamo di fare qualcosa in più e che andrà anche a portare nuove progettualità nel futuro. Per i prossimi giorni un'altra interessante attività che svolgeremo, e siamo stati molto fieri di poter essere stati invitati in questo evento, è quello del Blue Friday di Unesco del Decennio del Mare. In quell'occasione parleremo di consumo responsabile, di utilizzo in maniera consapevole del denaro, soprattutto in un periodo come questo, che è quello del Black Friday, in cui siamo sovrastati da sconti di ogni tipo, il che è un bene. Non demonizziamo certamente queste attività, facciamo solamente notare che il denaro può essere anche utilizzato in maniera diversa, come per esempio quella legata alla nostra Green Box, che viene donata proprio in questo periodo a tutte le persone che fanno un acquisto di almeno 100 euro e il cui ricavato di questa operazione andrà a sostegno delle attività della Fondazione Acqua dell'Elba. E quindi un uso responsabile del denaro che poi dopo si riversa sul territorio nelle cinque aree di progettualità della Fondazione, che sono appunto l'ambiente, l'arte, l'istruzione, la cultura, la salute e la sanità.